Oggi, dopo cinque mesi, ho ricominciato finalmente a pattinare. Sono stati momenti veramente difficili. A volte non riuscivo neanche ad allacciarmi le scarpe per il mal di schiena. Ma poi ne ho parlato con il medico ed abbiamo trovato una soluzione. Il dolore non è una terapia, ma esiste una terapia del dolore. Scopri di più su www.indolore.org